La Valtellina si prepara tra pochi anni ad ospitare i giochi olimpici di Milano-Cortina. Albaredo, come dicevamo, è al di fuori anche di questo, se vogliamo pensarlo come un percorso, del percorso, della linea che include le veni olimpiche. Avete però idea delle possibilità che potrebbe aprirvi questo evento? Io penso che questo evento possa rappresentare una grande opportunità. Al momento attuale manca l'anello che congiunge l'evento al territorio, quel territorio che non necessariamente è altamente turistico e intensivo. Questo va sicuramente completato perché diversamente si crea un divario di investimenti e territoriale eccessivo e che questo non va assolutamente bene. In questo io penso che possa essere promossa una linea di investimento che riguarda proprio il riavitare i piccoli borghi, nella logica che dicevamo prima, attraverso gli investimenti sulle start-up innovative, cioè i giovani che studiano e possono nel loro paese poter continuare l'attività. Basti pensare che il 50% dei laureati in provincia di Sondrio, che è un tasso ancora basso, trova lavoro fuori provincia. L'altro 50%, solo il 22% trova il lavoro per il quale ha studiato. Quindi c'è qualcosa che vuol dire che la qualità intellettuale è una risorsa importante per il futuro della provincia di Sondrio, purtroppo ce la lasciamo sfuggire. Cosa c'entrano le Olimpiadi con questo? C'entrano perché attraverso quel veicolo promozionale noi dobbiamo far sì che anche le risorse umane qualificate possano restare a sviluppare i loro progetti innovativi in una realtà come la montagna. Quindi io vedo volentieri che ci sia un bando significativo versi i giovani in questa direzione. Start-up innovative, ringiovanire, riavitare la montagna, superamento del digitale e in questo caso della banda larga perché è opportuno che in tutti i luoghi ci sia questo strumento perché diversamente non ci potrà essere futuro per le giovani generazioni. Il Consorzio di Tutela Vini di Valtellina traccia il bilancio del 2023. L'annata vidicola è stata caratterizzata da un andamento meteorologico del tutto anomalo rispetto a quello dagli ultimi anni con temperature sensibilmente inferiori alle medie, specie nei mesi da aprile a giugno e precipitazioni abbondanti nel periodo primaverile ma anche a luglio e fine agosto. Il mese di luglio è stato interessato dal Grandinate che in diverse date hanno colpito quasi tutto il versante evitato a esclusione dei vigneti compresi tra la Valgella e Tirano. La sottozona sassella è stata colpita più riprese determinando un calo quantitativo importante. Nel mese di agosto la situazione è cambiata rispetto all'andamento precedente perché le temperature si sono alzate sensibilmente raggiungendo valori massimi di 38-39 gradi. In questa fase in diverse situazioni si è osservata una certa sofferenza dei vigneti. Verso la fine di agosto la situazione è però cambiata e le precipitazioni hanno avuto un effetto molto positivo sulle piante perché hanno interrotto la fase molto calda di metà agosto e hanno consentito la ripresa dell'attività fisiologica della vite. Il mese di settembre 2023 è stato caldo e la situazione è rimasta praticamente modificata fino alla metà di ottobre determinando una prosecuzione dell'attività fotosintetica delle viti fino a stagione avanzata consentendo di raggiungere una maturazione ideale sia a livello polifenolico sia di zuccheri ma soprattutto il dato molto interessante è rappresentato dalle elevate acidità che non sono crollate come nelle annate con l'estate più calde. Le operazioni vendemmiali sono iniziate tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre e si sono praticamente concluse entro la terza settimana del mese evitando le piogge che sono cadute copiosamente nell'ultima settimana. Per quanto riguarda lo sforzato le operazioni di pigiatura sono state anticipate di dieci giorni rispetto alla media a causa delle condizioni climatiche calde e secche della prima parte del mese di ottobre che hanno accelerato le attività di appassimento. Crescono i numeri e si conferma il successo a Livigno per l'edizione numero 33 della Sgambeda con iscritti provenienti da ogni parte d'Europa e in rappresentanza di oltre 100 team. Francia, Norvegia, Spagna, Finlandia, Repubblica Ceca, Polonia, Austria e Svizzera sono soltanto alcune delle nazionalità rappresentate dai pettorali di quest'anno per una vera e propria festa dello sci di fondo capace di riunire nello stesso orizzonte professionisti della disciplina amatori provenienti da ogni latitudine e una folta rappresentanza di atleti locali. Sui 30 chilometri di questa edizione vince tra gli uomini Gerard Agnellet, dietro di lui Paolo Fantone e Daniele Serra a chiudere il podio. Era già venuto ma insomma questa vittoria è una bella sorpresa per lui è felicissimo vuol fare i complimenti al comitato organizzazione, la pista, il paesaggio, era tutto meraviglioso. Tra le donne, trionfo della polacca Justina Kowalczyk, profonda, conoscitrice del percorso e abituita del gradino più alto del podio. La seguono Bull e Mucceller. L'evento, inaugurato sabato dalla Mini Sgambeda, è stato concluso dalla festa in Plaza Placheda. Alvia le procedure di gara per la riassegnazione delle prime concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute. Lo ha stabilito la giunta regionale Lombarda. Si tratta delle concessioni denominate Coderà Ratti Dongo della potenza di 19 megawatt, spiega l'assessore regionale a risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori. Si trovano in Val Chiarenna nei comuni di Verceia e Novate Mezzola e in provincia di Como nei comuni di Garzeno e Dongo e della concessione denominata Resio della potenza di 4 megawatt nei comuni di Esine ed Arfobuario Termi in provincia di Brescia. Con questo provvedimento, prosegue Sertori, la giunta regionale avvia le prime procedure concorrenziali di gara a evidenza pubblica per la riassegnazione delle concessioni scadute. Il prossimo passo sarà per la successiva definizione e pubblicazione del bando. In sede di gara i concorrenti saranno valutati sia sull'offerta economica dei canoni sia sulla qualità del progetto di utilizzo dagli impianti nonché sulle compensazioni territoriali e ambientali. Si tratta di un asset strategico per tutto il paese, conclude Sertori, perché produce energia pulita e programmabile, inoltre è un'attività non delocalizzabile che necessariamente deve tenere conto delle esigenze dei territori sui quali gli impianti insistono. Sarà madesimo ad ospitare nel 2025 la prova unica del campionato italiano di Downhill. Disciplina in forte crescita, il Downhill trova proprio in Valtellina i percorsi più apprezzati. Uno sport veramente in crescita pazzesca, esponenziale. Abbiamo tantissime piste di Downhill in regione Lombardia, molto blasonate anche a livello internazionale. Considerando poi che in regione Lombardia è il 40% di montagna e soprattutto in questo caso oggi hanno presentato le piste, quelle più conosciute, che risiedono in Valtellina. Devo dire che è una grande opportunità per i giovani di crescita. Uno sport quindi di grande attenzione e concentrazione, ma anche di brividi. È uno sport comunque che piace tanto perché è in mezzo alla natura e sulle nostre montagne. Quindi questa chiusura di stagione di Downhill ha rappresentato un quadro importante che andiamo comunque a valutare anche per le prossime iniziative. La presentazione è stata l'occasione per fare il punto sulla stagione 2023 del circuito nazionale di Downhill. Delle cinque prove complessive di Coppa Italia, tre sono state disputate in Lombardia con le tappe di Borno, Madesimo e Bormio e per il 2024 sono già confermate le due prove valtellinesi. Abbiamo raccolto la sfida del presidente Fontana che tre anni fa ci ha detto perché non la proponete, l'abbiamo fatto e FC ci ha già assegnato il campionato italiano che si terrà a Madesimo nel 2025. Il bilancio per quanto riguarda il 2023 è ottimo, abbiamo fatto tante gare qua anche in Lombardia con la Coppa Italia perché abbiamo fatto Borno, Bormio e Madesimo dove a Madesimo abbiamo fatto anche il campionato regionale e questo direi che è stata un'ottima ricaduta sul nostro territorio e questo ci ha permesso di riproporre anche per il 2024 sia la Coppa Italia che chiaramente anche gli altri circuiti che noi organizziamo. Per quanto riguarda il 2024 la Coppa Italia avrà ancora due prove qui in Lombardia a Bormio e a Madesimo e Bormio sarà anche prova del campionato regionale in prova unica. Sarà un gradito salto nel futuro quello che attende Livigno nell'ultima settimana di marzo dal 24 al 30 quando allo snowpark Mottolino arriveranno i migliori talenti della prossima generazione di snowboarder e freestyler pronti per offrire al pubblico un assaggio di quel che accadrà nel 2026 con le Olimpiadi Invernali. Si tratterà di un vero e proprio teaser a cinque cerchi per un'intera settimana di adrenalina e di competizione che permetterà ai curiosi e agli appassionati di familiarizzare al meglio con le discipline. In palio ci saranno i titoli mondiali junior maschili e femminili di slopestyle e di big air sia dello snowboard sia del freestyle, due discipline estremamente spettacolari e caratterizzate da una grande componente aerea acrobatica per un programma piuttosto corposo ed elettrizzante che vedrà a scendere in pista i campioni del futuro, molti dei quali già protagonisti in Coppa del Mondo. Tra di loro, firma attesissima della manifestazione, sarà Flora Tabanelli recentemente entrata a far parte del Livigno Team, atleta di punta della scena freestyle italiana e grande speranza azzurra per il futuro. Lo scorso anno Caritas e Parrocchia di Sondrio hanno dato il via a un progetto sperimentale, il progetto Betlem per fare fronte a un'emergenza sociale, quella dei senza tetto e dare accoglienza nelle notti d'inverno. Quest'anno lo stesso progetto è già partito. Quali sono i risultati del primo anno e come sta andando ora? L'anno scorso siamo partiti a gennaio, è un discorso sperimentale, il progetto Betlem in realtà è già partito da diversi anni, un paio d'anni a Como, è un'esperienza che coinvolge alcune parrocchie di Como in cui vengono fatte delle accoglienze senza fissa dimora che hanno la possibilità di poter incontrare anche dei volontari in ambienti protetti. L'anno scorso siamo partiti a gennaio con un gruppo di quarantina, una quarantina di volontari della parrocchia di Sondrio. Abbiamo avuto la possibilità di dare accoglienza per 5 persone, di cui una rimasta praticamente sempre presente nel dormitorio e le altre invece alcune sono uscite. Quest'anno invece a novembre siamo partiti per partire la stagione invernale fino ai tempi della primavera, quindi verso aprile. Un progetto che va oltre l'idea di dare un tetto nelle notti d'inverno e che vorrebbe essere iniziativa pilota da replicare anche in altre comunità del territorio. Il progetto BTM intende soprattutto coinvolgere la comunità, metterli a contatto con queste persone che normalmente rimangono invisibili nella nostra città e quindi avere la possibilità di costruire delle relazioni attraverso quelle per portare le persone a incontrare queste difficoltà e soprattutto a cercare di capire quali possono essere le possibilità di recuperare dei percorsi che spesso sono interrotti su queste persone e quindi conosce anche le loro storie e dalle loro storie partire per capire qual è la possibilità di poterli anche reinserire nella nostra comunità. L'esperienza dello scorso anno ha consentito di portare avanti alcune di queste recuperi? Allora alcune sì, nel senso che alcune persone sono state portate all'interno di comunità, spesso e volentieri si tratta anche di persone che fanno fatica ad accogliere, accettare anche una revisione del proprio stile di vita e spesso e volentieri ci sono praticamente abituati a una situazione di comfort di basso livello per cui bisogna fargli capire un po' che c'è una possibilità anche per loro per poter venirne fuori e questo è un percorso molto lungo e si può costruire solo con delle relazioni che si mantengono nel tempo, è un po' il nostro obiettivo che cerchiamo di fare con questi volontari. Cambiano i vertici di ATS dalla montagna e ASST Valtellina Alto Lario, in ATS arriva Vincenzo Petronella, 57 anni, pugliese, che prende il posto di Raffaello Stradoni, che andrà in pensione. In ASST invece Monica Fumagalli, 59enne di Bormio, prende il posto di Tommaso Saporito. Le nomine dei direttori generali sono state rese note dopo la riunione di giunta regionale di giovedì sera dal presidente Attilio Fontana e dall'assessore alla sanità Guido Bertolaso. Petronella ha ricoperto l'incarico di direttore amministrativo dell'Istituto dei tumori di Milano e prima ancora ha avuto il medesimo ruolo al San Matteo di Pavia. Fumagalli dal 15 febbraio 2019 è direttore amministrativo del Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Prima era stata direttrice amministrativa dell'azienda ospedaliera Valtellina Valchiavenna, quindi aveva ricoperto lo stesso ruolo nella SST Valtellina Alto Lario. Le nomine dei direttori generali sono state decise sulla base delle competenze, afferma Bertolaso. Evidenziamo con soddisfazione l'aumento di giovani e donne tra i nuovi nominati, che siamo certi sapranno dare nuova energia al sistema.